Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! E' un gioco, è un survival, giocabile anche in cooperativa, dove potete fare drop dei vostri amici all'interno della partita, ed è un gioco che potrebbe ingannare molti, grafica simile voxel, potrebbe ingannare perché potrebbe sembrare uno dei classici giochi survival, e in parte lo è, ma la cosa interessante è che ha una storia, insomma un bozzo di storia, dove ci troviamo in questo mondo, ma soprattutto abbiamo un sacco di cose, ora inizio a fare mente locale così vi spiego un po' come funziona, abbiamo la mappa di gioco, la mappa di gioco è questa, il gioco una volta finito avrà 4 tipi di armi con tutte le relative skill ad essere legate, avremo diverse 4 mappe, 8 dungeon, 4 miniere, insomma di cose ce ne saranno tante, Adesso io non so dirvi se questa sia la mappa intera del gioco, ma qua vedo un portale quindi si andrà in un'altra mappa, è una mappa che mi ricorda molto qualcosa di tipo simile ad Albion Online, Ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere perché è davvero interessante, iniziamo dalle basi, le basi sono quelle che noi possiamo andare a raccogliere i materiali normalmente picchiandoli con i pugni, Quindi raccogliendo, vedete a sinistra raccogliamo le pietre, possiamo fare la stessa cosa con le piante e con i cespuli invece possiamo andare addirittura a raccoglierli senza abbassarci la vita perché in questo caso stiamo perdendo vita. Una volta fatto, con il tasto B c'è la possibilità di craftare, no scusate non col tasto B perché col tasto C vediamo le nostre abilità e con iniziamo da questo che iniziamo dall'inizio così andiamo in ordine, Le abilità che ci consentono prendendo questi punti qui possiamo spenderli per migliorare le nostre efficienze in termini di survival, Quindi la fame, che poi vediamo qui, vedete il simbolino qua, la barretta arancione, la gialla e la stamina, la vita qua in mezzo, possiamo migliorare la nostra diminuzione della fame, possiamo migliorare le nostre capacità di pesca e così via, Le nostre abilità per quanto riguarda la vita, la rigenerazione della vita, la velocità, così come le abilità di harvesting, poi abbiamo qua le skill. Le skill sono altri punti che noi riceviamo livellando, vedete sotto questa barra qui vedete i punti esperienza, quindi possiamo andare a prendere le abilità e come albion online le possiamo poi mettere qua sotto e sono legate a delle armi in particolare. In questo caso io ho sbloccato questa ma non ce l'ho perché è un'arma a due mani, quindi io posso andare a sbloccarmi questa, battle march piuttosto che thorns. Questa è carina perché mi permette di, vedete la prendo a livello 1 e tecnicamente la dovrei poter utilizzare legata alla spada, però non ho ancora capito come assegnarla, ok l'assegno così, perfetto, abbiamo l'abilità che in questo caso ci riflette il 25% di danno ai nemici. Comunque stavamo dicendo qua ci sono gli attributi, le skill, abbiamo col tasto H l'handcraft e quindi dicevamo abbiamo tagliato un albero a mani nude e rotto una roccia a pugni, possiamo craftarci le armature base, la balestra, possiamo farci le bende, la spada, tutte cose che io ho fatto, così come la grande ascia, la canna da pesca, la lanterna che possiamo accendere e spegnere per col tasto L e così via. Col tasto TAB apriamo anche il menu e nel menu mettiamo all'interno, vediamo tutto quello che abbiamo, ci saranno poi possibilità di espandere questo inventario mettendo degli zaini e col tasto L potremo accendere e spegnere la torcia che risulta comunque sempre legata a noi, non la teniamo in mano. Quindi la spada ci equipaggio in automatico anche lo scudo, che non so perché però va bene e col tasto 1, 2, 3 possiamo andare a passare da una arma all'altra. La visuale è ruotabile col tasto destra e fin qui ci siamo. In questo caso possiamo andare anche a prendere questi cinghiali, possiamo rotolare e adesso posso lanciare l'abilità, premo Q, vediamo, sì. Tecnicamente se lui mi fa male gli si rifletterà il danno, infatti lui ha perso un po' di vita, è stato stordito, ma io sto rischiando la pelle, quindi diciamo che vado e raccolgo. Con il tasto E raccolgo, se lo tolgo, mi sa che sono pieno, no, no, F scusate, con il tasto F raccolgo. Perfetto, qua abbiamo fatto. Dopodiché andiamo a vedere il tasto B, che è quello che ho premuto accidentalmente prima. Qua possiamo andare a craftare i basamenti per la casa, quindi io posso andare a espandere la casa, in questo caso posso fare così, mettere le fondamenta, così come posso andare a mettere i pilastri. I pilastri sono la base del crafting delle case, perché? Perché noi dobbiamo piazzare continuamente dei pilastri in modo da poterci piazzare poi delle pareti. Le pareti vanno solo tra i due pilastri. In questo caso non ho il vetro, quindi ci piazzo questo, vedete che io crafto la mia parete della casa. Il tutorial, che è abbastanza lunghetto, vi chiederà circa un'oretta o un'oretta e mezza, e vi dico, il gioco garantiva più di 16 ore quando è uscito, quindi è passato un anno di contenuti, ce ne sono, infatti lo vedremo. Diamo un'occhiata poi qui, i tavoli da crafting, c'è la workbench, il banco del fabbro, il banco di quello che lavora le pelli, il banco da cucina, il forno per la cucina, il banco d'alchimia, abbiamo la fornace, il fornello con la pentola, il telaio, quello dove si crea le pelli, il grinder, che è una sorta di mortaio, chiamiamolo così, l'incudine e lo scrapper, che ci permette di recuperare dei rottami. Abbiamo poi queste qui, che sono del mobilio per le case, dalla classica armatura del cavaliere, al camino, alla torcia, al stand per la candela, il tavolo da esterno, lo sgabello da esterno, la sedia da esterno, il vaso con le piante e così via. E qua abbiamo i decorativi, ma anche le cose più survival, come il campfire, la tenda dove poter dormire per passare la notte, lo storage che io ho messo qui, abbiamo la pila di fibre, quindi come si faceva in Valheim, quindi mettere tanta roba all'interno di un oggetto, insomma fare la pila di quell'oggetto lì. Abbiamo il pozzo e così via, le staccionate e così via. Ma non è finita qui, perché il gioco mi ha sorpreso, perché qua abbiamo la workbench e col tasto F possiamo andare a vedere ulteriori crafting, dal classico craft alla corda, usando i gomitoli, al cerchio del, non so, chiamerei un laccio, insomma. Questo è un altro tipo di bendaggio, di laccio, insomma. C'è abbiamo il secchio, che può essere riempito con acqua al pozzo, abbiamo il vaso, abbiamo la fiala per le pozioni, abbiamo la sella, perché si può anche cavalcare. Abbiamo il magical core, che ci servirà con qualcosa a che fare con l'alchimia, credo. Il blood ring è, e qui si sfocia un pochino nella magia. Abbiamo poi il loom. Il loom ci consente, adesso in questo caso ho raccolto questo, possiamo metterci, adesso mi pare non le pelli, ma ci mettiamo le fibre e ci genererà i gomitoli, in questo caso. Qua abbiamo la fornace, la fornace ci consente di mettere del metallo e mettendo della legna ci permette di raffinarlo. Quindi in questo caso stiamo raffinando questo metallo, che sembra carbone, ma non è. Questo è altro metallo ancora, no, è questa pietra, scusate. L'altro metallo, non mi ricordo dove l'ho messo. Comunque, vedete che qua sta facendo fuori. Non ci sono i tetti, è da quello che ho visto. Qua abbiamo il leather works bench, quindi il tavolo del lavoratore di pelle. E qua possiamo fare i vestiti. Quindi vedete che ci servono pelli e gomitoli, chiamiamoli così. Abbiamo anche questo, che sono le corde, e ci fa lo zaino, tre slot aggiuntivi per il nostro inventario. E qua abbiamo lo smithwork bench e qua le armature. Quindi vedete che il gioco, se giocato 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, non vi dà l'esatta idea di quello che il gioco deve offrire, perché calcoliamo che ci sono i cavalli, che ci sono le selle, insomma, le armature, insomma, e si combatte. Ma non finisce qui, perché, adesso vi faccio vedere, che vado a mettere qui sulla tanneri. Qua ho raccolto delle pelli. Io ho preso delle pelli dal cinghiale di prima, iniziano a seccare. E quindi li sto producendo ulteriormente altre cose. Qua non sto facendo nulla. Qua ho prodotto, vedete, i lingotti. Li prendo tutti. La legna me la rimetto nello zaino, che l'ho bruciata un po'. Qua abbiamo la possibilità di usare il campfire, quindi cuocere la carne. Possiamo farlo anche con altri oggetti. Qua vedete, posso spezzare premendo lo shift. E qua vado a cuocere la carne. Quando viene notte, voi vi potete mettere a dormire. Mettendovi a dormire, il tempo passa velocemente. Lo capite perché la fame scende. Quindi, adesso vi prendo il piccone e vado avanti. Ovviamente, in giro troverete soltanto cespugli, piante e cumuli di pietra. Se volete minare, la cosa interessante, lo rende interessante, anche se soprattutto se lo giocate con amici, è il fatto che per minare cose più interessanti dovete andare alle miniere. Quindi, in questo caso, vedete, dobbiamo andare in su, in quella direzione lì. C'è una miniera. Dentro ci sono i banditi. Sulla mappa vengono indicate tutti i cinghiali in giallo, perché non sono ostili. Quindi, mentre se incontriamo qualche accampamento di qualche nemico ostile, lo vedremo in un altro colore. Adesso io apro l'inventario. Sono ancora vestito di stracci. Posso mangiare la carne. Vedete che sale la fame. Una volta che io sono sazio, la vita comincia a risalire. Nel frattempo c'è la durability e lo vedete con quel simbolino dell'incudine. Quell'incudine significa che io ho ancora 194 colpi. Quindi, questo è interessante invece per la F, perché prendo le fibre. Le fibre sono importantissime. Come in ogni gioco, sono difficilissime da trovare. Nel senso che gli alberi ne trovate finché volete. Le pietre, oddio, un po' meno però ne trovate. Vedete qua c'è il simbolino dello scudo. Della spada, delle due spade incrociate e non dello scudo. E lì c'è un accampamento di nemici che potete uccidere. Se muoite, avete due scelte. Uno, risuscitare direttamente e perdere la durability del vostro equipaggiamento di un tot. O rinascere subito, sì, perdendo... Oppure rinascere come fantasma, un po' alla World of Warcraft. Quindi questo in sintesi è quello che il gioco ha da far vedere. Vedete che sono raffigurati con i pallini rossi, i nemici. La cosa che può essere fastidiosa è che potete vedere solo a questa distanza. Quindi dovete avere un pochino sotto mano il luogo dove vi trovate. Ma in questo caso vi viene in soccorso la mappa. Uso la Q così almeno dovresti subire qualche colpo di troppo. Ok, i lupi non li avevo ancora affrontati, ma ho recuperato pelli. I lupi sono ovviamente cattivi, quindi vi fanno male. Qua potete pescare. Io non ho ancora fatto la canna da pesca, è una cosa che potrei fare a breve. Ci sono tante cose che ancora non ho appreso, perché il gioco sarebbe in italiano ma è tradotto da Google Translator. Infatti sin dalle prime battute l'ho disattivata perché si capiva che era tradotto un po' così. Quindi in inglese si capisce bene. Perché mi pare che Quit fosse esonerare una roba del genere, insomma, e quindi ho detto no, non è il caso. Infatti poi ci sono delle cutscene, delle scene iniziali che un pochino vi raccontano la storia. Perché voi nel mondo trovate anche delle pietre che sono delle pietre che vi danno direttamente di puntiabilità. Quindi non li guadagnate soltanto facendo cose, ma anche trovando queste pietre e distruggendole. E quello è un vantaggio perché vi dà dei punti subito. Non è sicuramente un gioco che innova, ma è un gioco che potrebbe piacere a molti per il fatto che comunque lo stile grafico è molto simpatico e la costruzione delle case così mi piace molto. Possiamo mettere nella... vedete qua io ho fatto altre pelli, io le prendo, le metto altre che quello che ho fatto dai lupi adesso. La vita mi è tornata un pochino su. Vado a prendere, anzi a depositare nel telaio il... me l'ha messa qua... la fibra. E quindi faccio altri gomitoli. Io vorrei capire adesso come fare col tasto H, anche Landcraft, la... questa. Ok, mi servirebbero dei... ovviamente responano subito quasi le piante, comunque nel giro di una giornata o due responano. L'altra cosa che invece non mi è piaciuta molto è il fatto che voi potete attivare il ciclo giorno-notte, ma potete andare anche a modificarlo e renderlo sempre giorno, sempre notte. La palette di colori è molto bella, io la disattivo e lascio sempre il giorno, così almeno si vede, tanto non cambia. Quello è un po' un peccato, lo so, però è così. Craftiamo un'altra ascia. In modo da averla e tagliare l'albero, perché mi servono non dei legnetti, in questo caso, ma dei tronchi, perché poi il legno si divide tra tronchi e legnetti. In modo da farmi una canna da pesca, finalmente, che è la prima volta che lo faccio, e provare ad andare a pescare, provare una nuova esperienza. Posso fare la canna da pesca? Yes, usando i tre gomitoli. Ho fatto la canna da pesca, ho sbloccato anche un achievement di steam. Mettiamo via questa foglia che Herbalief, la foglia di Herbe, servirà sicuramente per l'alchimia, cosa che io non ho ancora approfondito, perché dovrei buttarmi a fare l'alchimia table, ma mi servono ancora degli elementi che non conosco ancora. La pesca io, onestamente, non so come funzioni, quindi possiamo vedere se lancio lì. C'è la coltivazione, perché vedete che in mano ho dei semi. Ghostberry seed. Ok, posso cliccare. Ah, carino! Bellino il gioco! Questo volevo scoprirlo insieme a voi. Proviamolo. Lo premere F al momento giusto, vediamo se ce la faccio. Ok. Allora, ok. Ma quindi? Ma, non ho pescatura. Fava. Cerchiamo di capire come funziona. Vedete che si muove il pesce. No, mi sono mosso, ho sbagliato. Cerchiamo di capire di nuovo. Ok. Vedete che si muove il pesce. Vedete che si sta anche consumando questo. Ok. Ho pescato qualcosa? No. Ho pescato niente. Bussata da... Perché mi dice di premere F? Perché il movimento mi fa tirare sulla canna da pesca. Quindi, vediamo un po' quanti lanci a 30. Non è molto flessibile, infatti, si vede. Vedete che io clicco qui. Ok. Tengo premuto. Tengo premuto. Tengo premuto. Ho pescato? Sì. Ho pescato questo. Può essere cucinato un campfire usando una ricetta. Perfetto, perfetto, perfetto. Adesso io non so dove andare. Non mi oriento. M, mappa, di là. Ecco qua che si vede. Nella mappa voi potete allontanarla. Vediamo di cucinarlo subito. Non si può saltare, ma si può arrotolare. Il combattimento diventa un po' souls-like. Anche perché poi all'interno delle miniere ci sono sia i banditi che i mob. Quindi ho trovato un orso io. Allora, vediamo un po'. Spezzo questo e cuciniamo il pesce. Così vediamo anche un confronto con la carne. La carne dà 1 di cura e 30 di cibo. Vediamo il pesce perché il pesce è comunque una fonte a sto punto illimitata di cibo. Ed è comodissima. Ovviamente sul lungo periodo bisognerà vedere. Cioè è uno dei tanti survival, senza dubbio. Cioè non è un capolavoro, non è assolutamente da avere. Cura meno giustamente la fame. Però la mangiamo subito e finiamo lì. Però mi ha sorpreso perché comunque a livello di tavoli da lavoro, cioè sono tanti, c'è il cooking pot, lo possiamo fare immediatamente il cooking pot. Magari andiamo a tagliare un albero. Che poi gli alberi con questi colori così mi piacciono veramente tanto. Vediamo se posso fare solo quello. Il cooking pot. Perché la forna ce l'abbiamo fatta. Il loom l'abbiamo fatto. Il grinder. No, per fare il pozzo, il grinder, vabbè, mi serve un pietre. Ma il pozzo... Vabbè, che senza il secchio non mi serve. Allora, facciamo il... Ok, il craftato. Me lo fa posizionare. Ogni edificio vi dirà se necessita di essere piazzato all'interno o all'esterno. Tipo quello del tunnel è solo all'esterno. La porta si apre. O così. Lo mettiamo qui. E vediamo subito se qui... Ok, qua si mette... Non so se io metto la carne. No, la cucino normalmente. Ok, niente, niente. Qua mi sa che bisogna fare cose un pochino più elaborate. Perché non si cuociono nemmeno queste. Quindi questo è un pochino più basilare come tipo di crafting. Cooking bench. E mi servono anche metalli. E bisogna tornare alla miniera. Anche perché responano. Quindi è carino giocare con un amico e andare avanti. Magari uno va in una zona, l'altro va in un'altra. Si affrontano le caverne insieme. Non è un gioco che vi trarà lì, secondo me, centinaia d'ore. Come dicono loro, quando è uscito garantiva più di 16 ore di contenuti. Lo hanno sviluppato un anno, quindi io purtroppo non lo conoscevo prima di un mesetto fa. Quindi non so dirvi quanto sia stato portato avanti. Avevano permesso uno sviluppo in pieno contatto con gli utenti, seguendo i consigli e diciamo sviluppando il gioco anche con i consigli e le richieste dei giocatori. Poi se qualcuno di voi lo conosce e non ha seguito lo sviluppo, mi racconti pure un pochino com'è cresciuto l'adventure. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video in play. Alla prossima e ciao ciao!